Nemmeno il supporto dalla panchina del presidente Leonardo Bambini è bastato al Trestina per evitare la terza sconfitta consecutiva. Al Casini ha avuto la meglio il Givi Borgo che dopo lo svantaggio iniziale ha ribaltato i risultati e portato a casa il quarto successo di fila. I bianconeri di Farsi sono rimasti a quota 27 punti al terzo ultimo posto della classifica a meno 4 dalla salvezza diretta. La formazione toscana guidata da Maccarone è invece salita a quota 40 a meno 3 dalla zona playoff. A partire meglio sono i locali. Al 14esimo Di Nolfo soffia la palla del dotto, si invola verso la porta e calcia con Manrique che riesce a respingere in qualche modo. Ma il direttore di gara Vincenzo Marara avvisa un fallo ai danni del 10 bianconero, ammonisce l'autore degli interventi regolari videtta e concede le calci di rigore al Trestina. Dagli 11 metri va lo stesso Di Nolfo che incrocia col Mancino e mette dentro la rete dell'1-0. Il vantaggio dei locali dura però soltanto 5 minuti perché al 19esimo Zini sulla destra fa secco Cenerini e poi scarica questo preciso sinistro che non lascia scampa. Montanari palla in rete e risultato nuovamente in perfetto equilibrio. Il Trestina però non ci sta e al 22esimo Bazzofia ruba palla videtta e poi apparecchia al centro per Gramaccia che però da pochi passi calcia clamorosamente alto. Al 35esimo i bianconeri trovano il gol con convito ma il gioco era già fermo perché sull'assist dedicato alla palla aveva superato la linea di fondo. Dall'altra parte alle 38esimo è ancora Zini a mettere in difficoltà la difesa del Trestina. Il numero 98 del Givi Borgo accelera, si accentra e poi serve un assist al bacio per Bongiorni che però calcia malamente e allora le due squadre rientrano negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti con il risultato sull'1-1. Ad inizio ripresa dopo nemmeno due giri di lancette è ancora Gramaccia ad avere una ghiotta chance ma anche stavolta il suo tentativo finisce sul fondo. Sul ribaltamento di fronte al minuto 48 il Givi Borgo mette la freccia. Solita azione sulla destra di Zini che fa secco Bologna poi serve seminare a che calcia. Montanari respinge ma nulla può sulle successive tapine di Tigani che porta in vantaggio i suoi. La formazione di Maccarone tre minuti più tardi rischia di vanificare quanto fatto quando il passaggio di Manric viene intercettato da Dinolfo che poi prova la conclusione ma il numero uno ospite si fa perdonare e para in due tempi. Dopo 55 minuti ricchi di emozioni la partita scivola via senza sussulti con il Givi Borgo in controllo e con il Trestina che fatica a creare qualcosa in avanti. Nemmeno le sostituzioni e il cambio di modulo optati da Farsi riescono a scuotere i bianconeri con l'assalto finale che non porta frutti. Dopo sei minuti di recupero arriva allora il triplice fischio di Marra. Alcasini finisce così. Trestina 1, Givi Borgo 2.